L'intesa commerciale tra Cina e Italia non è certo ai primordi. E non è certo un caso il crescente interessamento per il porto di Trieste. Nel periodo 2000-2017 i cinesi hanno investito nel nostro paese quasi 14 miliardi di euro e l'Italia è al terzo posto in Europa per la destinazione delle risorse cinesi. Sono i dati della fondazione Italia Cina, per la quale sono oltre 600 le aziende italiane a capitale cinese. Oltre 2000 invece sono le aziende cinesi a capitale italiano per 160 mila dipendenti in Cina e un giro di affari di 25 miliardi di euro. Anche di questo si è parlato nel corso del convegno alla stazione marittima di Trieste. Il Friuli Venezia Giulia, seppur una piccola regione, rappresenta da un punto di vista logistico la porta d'Europa. Il cardine tra Europa dell'est e Europa dell'ovest può offrire un'opportunità davvero ghiotta per la Cina, ma mi permetto anche di dire anche la Cina per noi. L'interscambio con la Cina per l'Italia vale 50 miliardi di euro, quindi cifre importantissime e non può che crescere nei prossimi anni. L'importante è farci trovare pronti, preparati a una sfida non semplice, non facile, soprattutto per quella che è la dimensione delle nostre imprese. Quei mercati lo affrontano con serenità imprese di grandi dimensioni. Noi abbiamo per il 95% imprese di piccole e medie dimensioni e come tali devono essere aiutate e la regione Friuli Venezia Giulia si mette fin d'ora a disposizione affinché quei mercati comincino a diventare un po' più semplici, un po' più frendi, un po' più affrontabili. Ma ora si aspetta il primo marzo, quando ci sarà la consegna di una nuova nave da crociera Fincantieri, la Costa Venezia, che fa capo a Carnival Corp, la prima compagnia a sbarcare in Cina nel 2006. Bellissima, devo ringraziare davvero Fincantieri e Costa Group per aver scelto la cornice di Piazza Unità d'Italia di Trieste come cornice per la presentazione della Costa Venezia, di questa nuova nave. Insomma, avremo l'opportunità in quei giorni di far conoscere la nostra meravigliosa città, ma non solo, perché so che verranno accompagnati anche a dei tour in giro per la regione, oltre 1.500 asiatici, quindi un'opportunità di promozione più unica che rara.